È stata tracciata, anzi verniciata, la pista ciclabile di Viale Trento Trieste. Realizzata lungo il lato sud, incarreggiata tra la corsia di marcia e l'era di sosta, a senso unico di circolazione, la pista costituisce un prolungamento di quella già esistente lungo il viale tra l'incrocio con Corso Garibaldi e quello con Via Palestro, fino ad arrivare a Piazza della Libertà. Lo scopo dell'amministrazione è quello di dar maggiore percezione dei ciclisti anche dopo la settimana della mobilità. L'ok della Giunta era arrivato il 18 luglio, un piccolo ma significativo intervento, aveva detto l'assessore alle politiche ambientali e polizia municipale Francesco Buordi. I ciclisti e gli automobilisti hanno apprezzato questo miglioramento della viabilità che segna comunque, in modo chiaro, gli spazi destinati ad ognuno, portando avanti in qualche modo, nell'ottica del miglioramento, la sicurezza stradale dei cremonesi. La polizia locale ha dichiarato questa segnaletica orizzontale compatibile con il codice della strada, pertanto tutti possono percorrerla ovviamente in bicicletta. La realizzazione di questa nuova corsia ciclabile è sicuramente un incentivo per recarsi a scuola, dato che Via Palestro è davvero a due passi in autonomia con la bicicletta anche per i ragazzi e quindi, perché no, lasciare le auto nel garage. La riva e la tua esperienza Grazie.